Salve e bentrovati. I mercati azionari europei, nonostante negli ultimi mesi abbiano raggiunto traguardi brillanti, oggi registrano una prevalenza di vendite. Pare che l'aspettativa sulla riduzione dei tassi da marzo non sia sufficiente a stimolare un ulteriore rally di qui a fine anno. A Piazza Affari il Fuzzimib ha accusato la debolezza di alcuni bancari, come vedremo tra poco, anche se poi questa debolezza non si è tradotta in percentuali fortissime. Dicevamo l'indice milanese che all'avvio aveva superato quota 30.500, inverte poi la china con un trend nettamente discendente, terminando sopra ai 30.300 con un meno 0,30%. Il DAX invece fa registrare un meno 0,18% mantenendo in questo caso i 16.700. Dopo gli ottimi risultati di ieri a Wall Street gli indici principali per ora mostrano un progresso piuttosto leggero. Il Nasdaq sta viaggiando sopra ai 15.100 punti, mentre il Dow Jones è sopra ai 37.700. La debolezza della seduta borsistica di oggi si riflette anche sulle percentuali dei singoli titoli, come d'altronde dicevamo poco fa. In una giornata con una prevalenza di vendite, il peggiore in assoluto del Fuzzimib, ovvero Monte dei Paschi, non riesce a raggiungere il meno 1%, per sua fortuna. Generali Assicurazioni invece perde lo 0,81%, quanto basta per rimanere sopra i 19 euro per azione pur chiudendo sui minimi di giornata. A breve distanza poi troviamo altri due bancari, come per esempio Biper e Banco BPM. In questo ultimo caso la variazione è identica, cambiando comparto, a quella di Monclero, ovvero meno 0,71%. Andando invece a dare uno sguardo ai migliori cinque titoli di giornata, emergono due società che il punto percentuale riescono a superarlo. stiamo parlando di Iveco, ma anche di Pirelli che sale dell'1,13%. Citiamo al volo, viste le variazioni piuttosto moderate, anche i progressi di Leonardo sul mezzo punto percentuale di Erg a più 0,42% e Ricordati a più 0,23%. Sul fronte valutario l'euro-dollaro che fino alle ore 15 aveva viaggiato sopra a quota 1,10% ritraccia sensibilmente in queste ultime ore riportandosi a 1,10%. Il passivo al momento rispetto alla scorsa mezzanotte è dello 0,30% circa. Più evidente il calo di euro-yen, meno 0,70% che ora è a quota 156. Come vediamo appunto l'incrocio valutario sin dalla mattinata, sin dalle ore 9, ma anche nel corso della notte è sempre rimasto in territorio negativo. Diverso lo scenario su Eurosterlina che come vediamo è rimasto al contrario sempre favorevole perlomeno per quanto riguarda la fase di contrattazione di Wall Street, quindi dalle 9 di mattina in poi è attualmente quota 0,86%. Con questa nota terminiamo l'appuntamento di oggi, ci ritroveremo comunque domani con ulteriori aggiornamenti. Grazie e arrivederci!